Bella ragazzi, faremo un video sui tester, un video semplice senza approfondire troppo ma interessante e utile per chi non ha molta dimestichezza. Questa è una situazione di protezione. Andiamo a misurare la tensione su questa presa che è di 219 volt con un tester da due soldi e adesso andiamo a misurare la corrente di questa presa. Misureremo la corrente di questa presa. Mettiamo su Ampere, 10 Ampere. Con i guanti non si lavora molto bene e qua è collegato sugli Ampere comune e Ampere e ora misuriamo. Cosa sarà successo? E' un bel guaio. Bisogna aprire questo tester. Intanto vediamo la presa. E adesso apriamo il tester e vediamo cosa è successo. Torniamo ai tester dopo l'esperienza di prima. Allora qua abbiamo una scaletta di tester da il più costoso al meno costoso. Questo qua è veramente quello come l'altro che avevamo trovato direttamente negli Ampere. E allora noi abbiamo ad esempio questo. Abbiamo un comune. Qua la misura di tensione e resistenza, tutte quelle cose di tantissime cose. Comunque tensione e resistenza. Per chi non ha esperienza poi su condensatori di frequenza e altro. Qua abbiamo la misura in mili Ampere spostando questo qua e qua la misura in Ampere fino a 10 Ampere spostando questo qua. Questo è sempre il comune. Resta dov'è. Torniamo qua. Allora prima avevamo messo su quel tester collegato sugli Ampere, 10 Ampere ed è successo quel che è successo. Ora misuriamo la tensione. Abbiamo messo su Volt alternati. Accendiamo. Questo ha un suo firmware, deve caricare il programma. Ecco, possiamo andare a toccare. Abbiamo una tensione piuttosto bassa e un po' ballerina. Aspettate, ecco, perché si sono 214 Volt circa. Scolleghiamo un attimo la corrente qua. Adesso andiamo su questi. Allora, con un tester, prima abbiamo fatto questo lavoro qua. O questo, anzi, più precisamente. Da una presa a 230 Volt non ci si deve mai attaccare tra comune e Ampere, tra comune e mili Ampere. Delle volte si prende il tester e da una precedente misura, vediamo perché, sente. Allora, da una precedente misura abbiamo lasciato in questa situazione qua, ad esempio, oppure questa. Lo prendiamo, vogliamo misurare la tensione e ci salta. Quindi la prima cosa da vedere in un tester da guardare, anzi, sarebbe sempre da staccare questo e attaccare al momento della misura dove ci serve. Allora, accendiamo il tester e l'abbiamo misurato, ok. Spegniamo questo. Andiamo un attimo a vedere altre cose qua. Allora, quando si va a misurare una batteria non si deve mai fare questo. Quando si va a misurare su una presa non si deve mai fare questo, non si deve misurare la corrente di una batteria o di una presa, perché di corrente ne hanno tantissima, ne possono fornire tantissima, tanto da esplodere il tester. Ma possiamo solo misurare la tensione, cioè mettere da comune volt home, quello di sinistra. Possiamo misurare anche la presa mettendo su volt alternati, mentre prima su volt continui. Altra cosa, qua abbiamo la possibilità di misurare oltre le batterie prese anche alimentatori e tensione regolabile. Su un alimentatore a tensione regolabile non dobbiamo mai, come per il discorso della presa della batteria, collegarci sugli ampere direttamente sull'alimentatore, ma solo sui volt. Mentre con un alimentatore a tensione e corrente regolabili si possono fare o una o l'altra misura, cioè settare i volt col tester, se sia un tester di precisione. E poi regolare gli ampere collegando su ampere e regolando la corrente, perché abbiamo due regolazioni su un alimentatore a corrente regolabile. Come dicevamo, qua abbiamo un alimentatore, bellissimo, poi lo troverete se andate nella descrizione del video, mettiamo il link. È poco costoso, è abbastanza preciso. Abbiamo la regolazione grossolana della corrente, fine della corrente, grossolana della tensione, fine della tensione. Lui adesso sta segnando 0 ampere perché abbiamo collegato il tester solamente per misurare la tensione. Non assorbe quasi corrente, quindi non si legge. Qua 7,8, chiaramente questo strumento è uno strumento che non va nel pelo dell'uovo a cercare i millesimi di volt come questo. Però vi dà un'indicazione, se vi serve regolare la tensione precisa, usate un tester oltre al suo strumento, ma è già sufficiente questo. Se adesso noi valiamo la tensione, lottiamo a 11, 11,67, infatti è qua, poi l'abbassiamo. Ma adesso facciamo un'altra cosa, spostiamo, togliamo questo, spostiamo in corrente, mettiamo su 10 ampere, è limitato a quasi 3,6 ampere, 3,57. Se adesso noi valiamo questo della regolazione fine, vedete che sale ad agio, se noi regoliamo questo della regolazione grossolana, vedete che salgono tutte e due. Sono bellissimi questi alimentatori perché potete limitare la corrente che possono dare. Quindi adesso stacchiamo e passiamo a un'altra cosa. Allora abbiamo fatto la misura della tensione della corrente corretta, non direttamente su una fonte, quindi adesso passiamo alla misura della resistenza. Quindi misuriamo una resistenza in ohm, allora dove sono gli ohm? Qua. Accendiamo, va bene, possiamo usare, dobbiamo mettere chiaramente di nuovo, comune e quello dei volt ohm, eccetera, eccetera. Adesso prendo una resistenza. Questa è la resistenza da un chilo ohm. Quando misurate una resistenza con i puntali o anche così con le boccole, tenete un capo a posto l'altro, toccate senza fare contatto perché se la resistenza è di alto valore, mettereste in parallelo la vostra resistenza. Infatti se io, guardate, 1,4, 1,3 mega il mio corpo, la mia pelle, perciò non toccherò il conduttore da una parte per non falsare la misura. Vediamo quanto segna, questo è un test molto preciso, in realtà non sono mille ohm, sia un chilo ohm, sono 0,9831 chilo ohm, cioè 900, è una resistenza con una tolleranza del 5%, quindi ci siamo, è giusto che non sia così precisa. Abbiamo fatto questa misura mettendo su ohm, adesso faremo un'altra misura della resistenza con un altro metodo e interverrà la legge di ohm. La resistenza che vogliamo misurare sarà uguale alla tensione che leggeremo ai capi della resistenza, V, diviso la corrente che passerà attraverso la resistenza, il tutto fornito da una batteria da 12 volt. Quindi prepariamo questa prova. Allora, adesso abbiamo collegato, come vi abbiamo fatto vedere qua, un tester che misura la corrente che fluisce, un altro tester che misura i capi della resistenza che è qua. Abbiamo questi due valori, 12,53 mA, che sarebbero 0,01253 mA, perché un mA è un millesimo mA, e 12,284 V, facendo la divisione, come avete visto nella formula, adesso viene fuori, 980,5 ohm circa, più o meno quello che avevamo visto prima. La formula è questa. La resistenza è uguale alla tensione, il volto è al capo della resistenza, diviso la corrente, cioè questo tester, quello che misura questo tester, diviso quello che misura questo tester. Adesso facciamo un'altra prova. Allora, stavolta al posto della resistenza abbiamo messo una lampadina. Come vedete, la corrente va diretta, anche prima potevamo farlo vedere. Noi stacchiamo la corrente diretta e ci attacchiamo al tester. Sì, ampere. Leggiamo, 11,386 V sta scendendo perché la batteria è molto scarica, è stata caricata l'ultima volta nel 2019. Leggiamo, 1,711, 1,7171 A. Facciamo il conto, come abbiamo fatto prima per misurare la resistenza di quella lampadina. Allora, la lampadina, allora abbiamo 11,312 diviso 1,08 e ci dà 10,47 Ohm. Abbiamo una resistenza, ricordatevi, 10,47 Ohm questa lampadina. Ora, c'è un'altra cosa da fare, se noi moltiplichiamo invece la tensione di Volt per gli Ampere, 11.295 per 1,706 come sta dando adesso, ecco abbiamo 19,2 Watt. Quindi moltiplicando la tensione per la corrente abbiamo la potenza della lampadina. Infatti è una lampadina da frecce da 21 Watt, naturalmente segna meno perché la batteria è piuttosto scarica, siamo già a 11 Volt, è scesa parecchio, devo ricaricarla. Ora facciamo un'altra cosa, stacchiamo, lasciamo un attimo raffreddare la lampadina e andiamo a misurare direttamente la resistenza della lampadina, che avete visto prima, ve lo siete ricordati, il valore che aveva. Allora mettiamo su Ohm, andiamo a misurare la resistenza della lampadina e ci dà 0,91 Ohm, una cosa piccolissima, un valore piccolissimo. Prima era molto più alto come misura corrente e tensione e in effetti adesso la resistenza è diminuita enormemente perché si era freddato il filamento. I metalli scaldandosi aumentano la loro resistività. arrivare a 2.000 gradi e oltre il cambio della resistività è enorme. In una lampadina ha incandescenza da 220 Volt 100 Watt, da fredda ad accesa, da accesa la resistenza aumenta di ben 14,5 Volt, che è una quantità notevole. Quindi non si possono usare le lampadine come resistenze per fare delle misure perché secondo la tensione, quindi la temperatura del filamento cambia tantissimo. Si possono usare in altri casi. In certi casi possono dare ad esempio uno spunto, un qualcosa messo in serie, un elettromagnete che lui attacca. La lampadina poi si scalda e diminuisce la corrente, tanto l'elettromagnete ha già avuto la forza di attaccare il suo pezzo di ferro che doveva attaccare e resta attaccato con minor corrente, si risparmia e tanti altri usi. Ora passiamo a... Prima abbiamo fatto... Questa è la resistenza. Questa è una sorgente e poi abbiamo il mare, che sarebbe la batteria, un dislivello. Abbiamo messo l'amperometro in serie che è come un contatore d'acqua. La resistenza è questa, che è un tubo che si stringe, e abbiamo messo un manometro differenziale che misura la differenza di pressione tra monte e valle. Quindi per sapere quant'è la resistenza abbiamo fatto, usato, si può usare la legge di Ohm. La corrente equivale alla portata, la tensione equivale alla pressione, alla differenza di pressione. Adesso passiamo a un altro tipo di misura. Questo è un voltmetro molto vecchio, all'epoca in cui non esistevano ancora i tester e i multimetri, quindi questo qua aveva solo portate di tensione, poi c'erano amperometri con portate di corrente. Questo invece è uno dei primi tester che ho avuto, il primo tester che ho avuto in vita mia. Ero piuttosto piccolo, me l'ha regalato mio padre, perché lui aveva unice. E poi questo invece l'ho trovato, è ancora più antico. Adesso, nel frattempo che continuiamo il video, stiamo caricando, non so se avete mai visto il video numero 296, come caricare una batteria, stiamo caricando a corrente, a tensione costante e a corrente limitata, questo accumulatore che è tanto che ne aveva bisogno. Allora, questi sono condensatori di motori, questo qua è una vecchia, vecchia, vecchia lavatrice, questo qua di un'autoclave, mi sembra, che tra l'altro non riusciva più a avviarsi. L'ho tenuto, ha una particolarità, è un condensatore di palli estere, superfici metallizzate, questo condensatore è da 25 microfarad. Come mai non riusciva a far avviare bene l'autoclave? Noi lo misuriamo col test, molti test danno questa funzione, mi segna 17,5 microfarad. Una parte della metallizzazione, se è corrotta, se è bruciata, e ha diminuito la sua capacità e non riusciva più a dare forza al motore. Qua invece abbiamo questo vecchissimo condensatore, che è da, trattate un attimo, sembra 12 microfarad, 12,5 microfarad, meno 0, più 10%, può essere quindi da 12,5 e più microfarad. Lo misuriamo, l'altro scrolla dentro, c'è dell'olio dentro, 13,7, quindi siamo nel più 10% rispetto a 12,5, è ancora perfetto, nonostante l'età. Quindi, se avete un problema e non sapete se un condensatore di un motore, dell'avviamento di un motore, funziona, perché non riesce a partire o ha problemi, dovete usare quella funzione dove c'è il simbolo del condensatore. Anche in altri tester c'è ad esempio quello lì, qua insieme ad altri simboli, con il pulsante funzioni si trova, si individua la funzione di Q4, perché non serve vedere solo se in cortocircuito non basta, bisogna vedere se effettivamente questo non ce l'ha, se effettivamente il condensatore ha la sua capacità esatta. Adesso passiamo ad altre misure. Un'altra misura interessante è questa. Questi sono diodi. Può capitare a volte di vedere se sono sani o se è cancellata la bandina. Questa qua che indica il senso, la polarità, per vedere qual è il senso giusto. si mette su la funzione diodo e naturalmente su questa V ohm, quella lì non gli amper, non c'è da niente. Allora, un diodo, questo è il positivo, un diodo fa passare la corrente che gli si manda solo in un senso. Allora, se noi mettiamo sul catodo il positivo dove c'è la bandina e il catodo e sull'anodo il negativo non succede un bel niente. Se invece lo invertiamo, misuriamo una tensione 0,48 Volt. Questo qua lo sto tenendo caldo, poi vi facciamo un diodo di una cosa. Ecco qua, un classico 1N4007. Questo qua è più freddo. 0,57 Volt. Guardate come scende. La tensione in un diodo al silicio scende di 2,5 millivolt per grado. Quindi i famosi 0,7 Volt sono a temperatura più bassa e poi dipende anche dalla corrente perché in serie alla giunzione c'è anche una resistività dalla corrente con cui si fa la misura. Poi questi qua sono diodi quelli da alternatore d'auto. lo proviamo anche lui. 0,49 perché nell'altro senso non conduce, è buono. Questo invece è un diodo al germagno, un antico diodo al germagno che è un OA81. Allora, se noi mettiamo, colleghiamo inversamente non conduce, colleghiamo direttamente notiamo una tensione bassissima e non è caldo questo, non l'ho scaldato perché il germagno ha una tensione sulla giunzione molto più bassa del silicio. Adesso cosa abbiamo? Queste sono le due misure che abbiamo fatto adesso in un senso polarizzato inversamente non da nulla nell'altro senso da delle tensioni che variano a seconda della temperatura e del tipo di diodo. Però, poi cosa abbiamo? Esistono i transistor. Questo è un transistor. Ci prendiamo questo, che è un transistor NPN. Per controllare se un transistor è buono dobbiamo fare questa cosa. un transistor poi il PNPN è la stessa cosa basta invertire i fili. Un NPN è questo i collegamenti sono questi ed è formato da due giunzioni che sono come due diodi. Perciò, se noi colleghiamo il più qua non dovrebbe passare alla base infatti non segna niente. Se noi colleghiamo se noi colleghiamo invece lasciamo sempre sulla base il più all'emettitore cioè qua questi questi coccodrilli sono un po' fanno un po' cagare non passa niente. Invertiamo colleghiamo il più alla base adesso come vedete nel senso giusto dei diodi abbiamo 0,72 volt in un senso e 0,73 nell'altro quindi funzionano le due giunzioni però a volte non basta perché potrebbero essere in corto qua quindi avremo uno due diodi che vanno su tutti e due questi quindi facciamo ancora una prova andiamo a collegarci tra base e collettore in un senso e nell'altro qua non dà niente quindi non c'è cortocircuito assicuriamoci del tutto non dà niente non c'è cortocircuito questo transistor funziona adesso lasciando perdere il tester andiamo a vedere un qualcosa che ci permetterà di capire con più certezza se un transistor è buono lo faremo lavorare dinamicamente lo faremo amplificare perciò abbiamo costruito questo stupido semplicissimo circuitino con una pila da 9 volt una resistenza a un led che se noi colleghiamo questi il led si accende allora se noi prendiamo un diodo ad esempio lo polarizziamo inversamente il led non si accende se direttamente il led si accende ma ora prendiamo il nostro transistor npm diamo il più al collettore il meno all'emettitore il led non si accende però vi faccio vedere una cosa se noi scolghiamo di nuovo tocchiamo i due fili si accende appena appena il led minimamente con le dita passa un po' di colettore adesso riesce a accenderlo se noi colleghiamo il transistor e tocchiamo tra collettore e base con un dito guardate il transistor amplifica la piccola corrente che il mio dito comunica tra il collettore e la base viene amplificata in una forte corrente che accende fortemente il led un'altra cosa vi faccio vedere quest'altra cosa qua noi adesso invece che mettere il dito tra collettore scusate tra collettore base quindi io tocco tra collettore base che faccende se noi avviciniamo due fili teniamo d'occhio bene il led e con una fiamma lambiamo i due fili collettore base il led si accende minimamente non so se si vede perché una piccolissima corrente dal collettore finisce la base attraverso la fiamma come fosse il mio dito e viene amplificata questa piccolissima corrente a tal punto da far accendere un led poi abbiamo un altro transistor tipo questi qua di potenza il collettore è questo l'emettitore i due pin sono in alto l'emettitore è sempre sulla destra e adesso io tocco collettore e base sempre si accende questo transistor funziona con certezza perché con questo sistema abbiamo la certezza che il transistor amplifica ed è una cosa molto molto importante passiamo a un mosfet qua abbiamo un mosfet noi colleghiamo il positivo al source negativo e vediamo che è acceso il led però noi andiamo a toccare tra source e gate e si spegne il led se noi tocchiamo tra drain e gate si accende il led e resta acceso ritocchiamo come prima e si spegne questo perché non c'è bisogno di un passaggio di corrente sul gate di un mosfet come può avvenire un transistor per farlo amplificare ha solo bisogno di una polarizzazione di tensione quando io tocco tra il più il gate questa base questo gate che non consuma quasi corrente resta carico e continua a far passare corrente tra il drain e il source allora lo rispegniamo ok prendiamo il nostro accendino e facciamo il lavoro di prima che abbiamo fatto col transistor è ancora più sensibile perché basta una corrente veramente piccolissima per innescarlo possiamo anche va bene così c'è pieno di roba da provare a questo punto penso che ci sono altre misure che si possono fare con un tester anche la frequenza e tante altre questi tester poi hanno tantissime funzioni e c'è ancora una misura da fare la pinza amperometrica questo qua va collegata al tester adesso vi facciamo vedere prepariamo un circuito per farvi vedere la misura esistono anche pinze amperometriche poi vi dovete anche nella descrizione magari mettiamo un link che hanno direttamente il display senza avere il tester e si può fare la misura adesso allora la pinza amperometrica serve per misurare la corrente in cavi, barri in qualsiasi cosa senza tagliare il filo perché con un amperometro bisogna interrompere il filo e collegarsi sull'amperometro come abbiamo fatto vedere prima questa qua funziona sia in continua che in alternata basta far passare dentro il filo e vedete che misura una corrente più o meno che la stessa dell'alimentatore se noi spostiamo in millibolti alternati ok qua abbiamo collegato alla corrente quella stufetta elettrica che vedete là se fossimo in un impianto elettrico senza dover staccare fili nel caso di prima in un impianto di un'auto ad esempio per vedere se ad esempio carica il generatore si può andare sul cavo del generatore e vedere quanto la corrente sta dando il generatore la batteria o vedere quanto consuma l'impianto delle luci quanta corrente passa o se ci sono dispersioni che passa un po' di corrente invece in alternata basta fare così e misuriamo 2,8 ampere perché basta adesso io attacco l'altra l'altro tasto sta con tasto 1,7 1,7 attacco con le due ma sta con l'altro da due potenze diverse 2,8 2,8 tutti e due i tasti questa è una stufa molto molto poco potente e anzi forse c'è una delle due resistenze che non va perché ultimamente scaldava fuoco ecco qua se vi interessa qualcosa mettiamo dei link di Amazon in descrizione del video se volete vedere avete bisogno in testa di qualcosa potete andare lì vi consigliamo di iscrivervi ai nostri video al nostro canale youtube perché non pubblichiamo i video con una certa costanza per cui in questo modo potrete rimanere sempre aggiornati sulle novità e sui nostri nuovi video qua c'è un azzeramento serve per regolare la risa portare a zero adesso sono andato oltre ecco il resto l'altra portata ecco mi sono dimenticato di dire che su molte pinze amperometriche c'è questo azzeramento anche perché è possibile che appunto si magnetizzi la pinza e quindi con questo offset abbiamo la possibilità di azzerare la pinza e sarà una misura precisa sì e comunque iscrivetevi mettete like se vi piace il video e guardate che sul canale abbiamo varie playlist dove ci sono regruppati per genere in tutti i nostri video elettronica elettricità meccanica eccetera eccetera fisica elettrochimica chimica elettrotecnica una bella botta va bene quindi salutiamo bella bella ragazzi grazie